ola raga vediamo il diretto destro o il diretto sinistro comunque diretto il mio diretto portato col braccio dietro sono in posizione di guardia giù la testa cosa devo fare non guardate bene io adesso non parlare devo pensare a buttare indietro la spalla sinistra in questo modo ruoto ruoto lanca e in automatico porterà leggermente anche il calore da qui ruoto punto indietro la spalla sinistra e lascia il portiere il diretto destro volto volto volto